Ci troviamo nella sala grande del glorioso Teatro Biondo stabile di Palermo. La stagione teatrale si è aperta il 16 scorso con la voce umana Il fantasma di Marsiglia di Jean Cocteau per la regia di Marco Andriolo con l'interpretazione di Galatea Ranzi. Noi siamo partiti con questa stagione in un ritardo che per alcuni, soprattutto per i nostri abbonati, è irragionevole, ma che per noi era ragionevole legati come siamo sempre alle vicende del Comune di Palermo e alle oscillazioni delle amministrazioni e soprattutto del Comune. Comunque, la stagione c'è e ci sarà, ci sarà grazie all'impegno anche personale del nostro direttore Pietro Carriio che quest'anno ha composto un cartellone particolarmente forte. Natale in Casa Cupiello di Edoardo. Perché un testo datato, il repertorio, è stato scelto per dare inizio a una stagione d'assalto? Natale in Casa Cupiello, senz'altro, ormai appartiene alla schiera dei classici. Credo che sia uno dei testi italiani più popolari nel mondo e sicuramente in Italia addirittura un'opera di culto. E quindi, diciamo, perché non metterla in scena, soprattutto in una rilettura che Mascia fa? Nel cartellone di quest'anno c'è la presenza di autori siciliani. Quest'anno la presenza dei siciliani è particolarmente folta. Lo è stato ogni anno compatibilmente alla progettazione. Un teatro stabile si fa attraverso dei progetti, attraverso delle scelte, attraverso dei colloqui che si avviano ovviamente col territorio. Quest'anno appunto sia Licata che Perriera, che tornano in qualche modo al biondo attraverso una lente che è quella che vuole individuare nelle scritture dei siciliani del limite, delle scritture limite. Facciamolo anche al pubblico perché facciamo anche un servizio al pubblico. Lo Shakespeare, anche l'altro Shakespeare, quello con Scamarcio, che è stata una scelta non solo dettata dal fatto che è un piacere avere finalmente, voglio dire, un attore che è popolarissimo, ovviamente televisivo, eccetera, ma che è anche bravissimo a teatro, perché abbiamo visto lo spettacolo e vi assicuro che lo spettacolo, Romeo e Giulietta, che appunto è uno dei punti di forza di questo cartellone, merita davvero l'attenzione.